Quindi Drigo ci farà vedere la sua enorme pedaliera, vediamo. Questi qua sulle nostre chitarre sono fatti in osso, realizzati a mano da noi. Tra l'altro quale osso? Abbiamo deciso di provarne tanti, alla fine abbiamo trovato un macellaio ad Arezzo. Possiamo dire che questo è osso di mucca chianina. Probabilmente per quanto si dica che il rock è morto, in realtà questa cosa qua non è reale. E mi chiedo se ci sarà ancora spazio per questa musica di m***a che stiamo ascoltando adesso. Grazie a tutti.